Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Allora, vorrei parlarvi di un libro che mi è stato inviato da una casa editrice, che è sempre la stessa, e che mi è piaciuto tantissimo. Allora, andando per gradi, il libro in questione è Carlo Caina, Il Siero della Verità. Questo libro mi è stato ovviamente dal formato inviato da Iperborea e io l'ho veramente adorato. Allora, iniziamo col darvi alcune visioni generali di questo libro, tra cui il fatto che è un distopico. Quindi, già se non vi piacciono i distopici, questo libro non fa per voi. A me piacciono però diluiti nel tempo, quindi uno ogni qual volta, non sono una lettrice di distopici assidua. Però questo libro mi è piaciuto molto e vi spiego anche il perché. Allora, innanzitutto, se avete letto, appunto, altri libri distopici molto famosi, come possono essere 1984, oppure ci sono anche dei rimandi a noi, di Zamiatin, anche rimandi ad un altro distopico che io personalmente non ho letto, ma che è molto famoso, che è Il Mondo Nuovo, li ritroverete qua dentro. Perché? Perché è difficile comunque scrivere un distopico totalmente da zero, nuovo proprio, però devo dirvi che questi rimandi non sono stati così preponderanti da dire «Oh mio Dio, è una scopiazzatura». No, assolutamente. Qua c'è una storia e poi, ovviamente, ci sono, diciamo, dei piccoli consigli presi qua e là da altri libri. Allora, di che cosa parla Callocaina? Innanzitutto abbiamo il nostro protagonista, che è lo scienziato Leo Call, che inventa, appunto, questa Callocaina. Lui è un chimico, vive nella città chimica numero 4 dello Stato Mondiale e già qua vi fa capire che c'è qualcosa che non torna a livello, diciamo, di politica e di conseguenza lui, appunto, per il bene dello Stato Mondiale decide di inventare la Callocaina, che è questo siero, tipo verdognolo, che viene iniettato direttamente nelle vene dei, diciamo, nelle vene di coloro che vengono arrestati per estorcergli delle verità, ma è un modo, diciamo, indolore, nel senso che all'interno di questo Stato Mondiale ci sono delle pratiche per estorcere la verità ai condannati, o comunque a quelli che ancora non sono stati condannati, ma che sono delle persone presumibilmente colpevoli, ma sono tutti metodi violenti. Invece la Callocaina no, perché? Perché semplicemente ti inizia a far parlare liberamente, tu non soltanto risponderai alle domande che ti vengono poste, ma anche proprio continuerai a parlare delle tue paure, le tue angosce, oppure ciò che ti rende felice, proprio a ruota libera, e in più, come effetto collaterale, avrà una leggera nausea, un po' come un post-sbronza, infatti, però molto più leggero, perché lo scienziato Leo Kahl si basa proprio su questa pratica, quindi quella del sottrarre i freni inibitori, che viene rimandata appunto all'uso di alcolici, che nella città chimica numero 4 non si fa più, o meglio, nello Stato Mondiale non si bevono più alcolici, perché viene vista come qualcosa di datrogloditi, infatti si dice che nel passato c'erano questi uomini che facevano abuso o uso di alcolici e che quindi parlavano liberamente. Il principio appunto della callocaina si basa su questo. Ora, il nostro Leo Kahl è un po' paranoico, non riesce a fidarsi neanche di sua moglie, non si fida del suo capo, queste due figure che sono Linda e Erissen, rispettivamente la moglie e il capo, sono molto importanti all'interno di questo libro e soprattutto lui da poco dopo che inizia gli interrogatori con la callocaina inizia ad avere anche dei dubbi, si fa delle domande sullo Stato Mondiale e lui cerca sempre di reprimere queste domande semplicemente perché non va bene, lui sa che a livello di ciò che gli hanno insegnato è sbagliato. E in pratica ci sono un sacco di vicende per cui si arriva, ve la sto facendo molto breve, alla promulgazione di una legge che praticamente fa sì che i reati di pensiero si possano considerare appunto dei reati. Quindi sotto l'influenza della callocaina se uno ha anche pensato che schifo lo Stato Mondiale può essere arrestato perché è atto di terrorismo, eccetera, eccetera. E già qua ci sono molti rimandi a 1984 comunque. Detto ciò, il finale di questo libro io non me lo aspettavo, nel senso che di base i distopici funzionano in questo modo. c'è appunto un personaggio che segue i dettami del regime dopodiché ha un'epifania per cui capisce che è una vita assolutamente grama e infine però non riesce a redimersi ma ritorna all'interno di questo ciclo del regime in realtà qui il finale non è questo quindi lui non ritorna nel ciclo del regime ma non ve lo dirò perché altrimenti vi tolgo tutta la bellezza di questo romanzo di questo distopico. Alcune considerazioni su questo libro allora mi è piaciuto, mi è piaciuto molto è un libro che si legge in fretta la scrittura è scorrevolissima devo dirvi la verità infatti l'opera secondo me di traduzione è ottima veramente e in più ci sono delle riflessioni molto belle che si possono applicare come un po' tutti i distopici non soltanto a un mondo che non esiste che nella nostra concezione può fare paura perché è assolutamente al di fuori di quello che è la normalità ma che si possono applicare anche effettivamente soprattutto alle relazioni qui si basa tanto sulle relazioni interpersonali e secondo me appunto sono delle riflessioni che si possono fare anche nella nostra società che sempre di più sta evolvendo e sta cambiando in bene o in male sarà da vedere c'è da dire che però ci sono dei discorsi che la moglie fa a Leo Kahl oppure lo stesso Rissen che fa alla comunità che sono veramente belli secondo me il punto forte di questo libro sono i dialoghi e appunto questi discorsi quasi da oratore che sono meravigliosi perché c'è tanto il pensiero quindi noi seguiamo il nostro protagonista nelle sue riflessioni eccetera ma c'è anche tanto discorso che è una cosa che io non ho trovato particolarmente negli altri distopici che ho letto sono molto più riflessivi molto più introspettivi quindi il nostro protagonista pensa oppure il nostro protagonista cerca di scrivere eccetera eccetera però non c'è mai un vero e proprio confronto proprio perché si ha paura di ciò che l'altro potrebbe pensare quindi denunciare la determinata persona in realtà in questo caso avendo proprio la callocaina quindi questo siero che ti fa dire tutto è molto più semplice avere questo dialogo e questo confronto e a me è piaciuto veramente tanto questa parte questa peculiarità di questo distopico quindi io non ho molto altro da dirvi appunto se non che è un libro che io ho veramente apprezzato e fatemi sapere se l'avete letto o quali distopici avete letto perché io sono appunto non sono una lettrice assidua però sono un po' in cerca di qualcosina d'altro dei distopici quindi magari andrò a vedere questo Il Mondo Nuovo che non ho mai letto e a cui si ispira questo libro e niente appunto fatemi sapere nei commenti se ne avete altri da consigliarmi io spero che questo video vi sia piaciuto se volete supportare il canale lasciate un pollice in su e iscrivetevi se volete farlo in modo attivo c'è un link grazie al quale potete regalarmi un libro come sempre vi lascio i miei profili Instagram e TikTok nell'infobox e noi ci vediamo alla prossima ciao